Anzi, ripresentare il nostro ospite canoro, ecco voi, Michele Scarvi. Lo mangerà i più famosi crooner al momento, con tre brani in successione. I've got you under my skin, night and day, and it's not unusual. I primi due vennero scritti da Cole Porter. Sentiremo I've got you under my skin, nell'arrangiamento di Alessio Ortoni, con una solo di Mauro Bonfante al trombone. Seguirà Night and Day, arrangiata da Nelson Riddle e dal maestro Vladimir Belonovsky, che si esibirà anche in un solo al trombone. Il terzo brano, It's not unusual, fu scritto nel 1965 da Gordon Mills e Leslie Reed e venne portato a successo da Tom Jones. Qua lo sentiamo nell'arrangiamento di Alessio Ortoni e di Vladimir Belonovsky, cantato naturalmente da Michele Scarvi. Michele non è l'unico ospite, ripresento. Abbiamo il piacere di avere con noi un musicista, compositore, insegnante, nonché grande amico di Alessio Ortoni, il maestro Stefano Trevisi e Pieroforte. La banda Città di Mantova Alessio Ortoni e Michele Scarvi. Grazie. Applaus